Il Partito Democratico ufficializza i nomi dei candidati alle prossime elezioni politiche del 25 settembre. In Abruzzo il senatore Luciano D'Alfonso e il segretario regionale del partito Michele Fina sono i capilista per il proporzionale alla Camera e al Senato. Dopo giorni di attesa e rumors la lista ufficiale dei candidati del PD è stata stilata e sarà presentata domani a Pescara nel corso di una conferenza stampa in occasione della quale si parlerà della campagna elettorale delle candidate e dei candidati di Italia Democratica e Progressista. Uninominale Senato Abruzzo, candidato Massimo Carugno, originario di Sulmona, avvocato e la sua candidatura è stata proposta dal PD alla coalizione. Uninominale Camera Chieti, Elisabetta Merlino, avvocata di Lanciano, già assessore comunale, vice segretaria regionale del PD. Uninominale alla Camera Pescara a Teramo, Luciano Di Lorito, ex sindaco di Spoltore. Uninominale Camera L'Aquila a Teramo, Rita Innocenzi, sindacalista da 27 anni nell'esecutivo regionale della CGL Abruzzo e Molise. Per il proporzionale al Senato, oltre al segretario Fina, Stefania Catalano, consigliera comunale a Pescara, insegnante di sostegno e sindacalista. Ernesto Graziani, avvocato e sindaco di Paglieta. Per il proporzionale alla Camera, oltre a Luciano D'Alfonso, presidente della Commissione Finanze del Senato, i candidati sono Stefania Di Padova, avvocata, assessore al bilancio del Comune di Teramo, Fabio Ranieri, funzionario di Abruzzo Progetti e coordinatore regionale di Articolo 1, Emma Zarroli, avvocata di Martinsicuro. Il segretario Fina, dando notizia della sua candidatura sulla pagina Facebook, ha scritto che porterà in questa nuova sfida oltre 20 anni di impegno sulla tutela dell'ambiente, quindi della salute e la dignità di chi studia e lavora che deve essere protetto in un paese sempre più diseguale. Il sostegno al sapere e alla cultura e all'istruzione. Ha evidenziato che il PD Abruzzo è arrivato fin qui unito, un'unità rispettata da un partito nazionale che, grazie ad Enrico Letta, ha messo al centro i territori.